E sono tutti amici cooperari e bentornati in questo nuovissimo video Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutto quanto quello che potreste pensare Discord, Facebook, Instagram, tutto quanto Anche al mio Twitch se vado in live poche volte cerco di fare sia live su Twitch, su Youtube quando posso Un video che avevo pensato di fare perché ci sono tante discussioni Il modding di Tarkov, il modding di World War 3, ovviamente quello di Tarkov è meglio World War 3 fa schifo ma qui non siamo per giudicare il modding di nessuno dei due Ma siamo per vedere la differenza perché comunque Tarkov lo sappiamo è famosissimo per il suo modding esagerato Perché può cambiare tutto, qui vedete come dal valle che si parte dal punto base da dove c'è il meccanismo E quindi gli metti poi il tube dietro per metterci il calcio Questo è un calcio con già il grip Poi c'è la canna, canna piccola, canna lunga, canna media Poi il gas bloc che se no spara un cazzo E ci succede, vabbè, è inutile diciamo parlare di modding di Tarkov sul mio canale perché tutti lo conosciamo bene È un modding assurdo, davvero davvero assurdo Ci sono tantissime tantissime cose Puoi farti, non so Si può avere una fantasia assurda con Tarkov e i modding Però parlando anche di quello di World War 3 non è male Cioè si avvicina molto, è l'unico gioco che secondo me, penso secondo la maggior parte delle persone Si avvicina molto al modding di Tarkov Magari per chi non conoscesse Tarkov, questo è il modding di Tarkov Un'arma può uscire così Mentre qua vi mostro un'altra variante Questo è un VAL, quello lì quello iniziale era un VSS Che praticamente non cambia quasi niente Questo è un VAL con il calcio da M4 Poi la parte davanti era uguale a prima se era già vista Questo è un altro tipo di M4 con un calcio diverso Un handguard diverso Poi c'è, vabbè, il grip davanti è sempre lo stesso di prima Questo è da SKS Invece del classic SKS è giallo, marrone Questo è un po' più fico Calcio da M4, tutte le rail, cose silenziate, bla 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 Questo è un FAL, il FAL che tutti conosciamo da tutti i giochi Anche questo modabile figatamente Quindi il mirino, l'amr Quindi il dust cover con la rail, il silenziatore Mentre qui è un FAL fico Questo è l'ultimate FAL perché poi da qui possiamo metterci tutte le mode che vogliamo Poi qui vi mostro l'RSAS Però senza mirini o cose giusto per farvi vedere un po' le armi come sono Questo è il M1A, il nostro amatissimo M1A Che questo diventa un, non lo so, un robot diventa questo Possiamo dare che, guardate qua che bestia È una bestia È sempre un M1A Cioè da quello di prima lo possiamo far diventare così Giusto per farvi capire anche che razza di mod ci sono su sto gioco Poi qua vi faccio vedere un po' di pistoline Questa è la Glock 18C Con la rail davanti Il mirino, il caricatore da 50 Questa è una PB Che sarebbe una PS con il calcettino e il suo silenziatore Però si chiama PB Qui vi faccio vedere un po' tutte le mode che almeno ho io Perché non ho la gente a livello 4 Quindi è un bel, ce ne sono già, ce ne sono tante di mode nonostante ce le abbia dal livello 2 al livello 3 I trader E questa è un po' tutte le mode che ci sono Adesso passiamo al magico World War 3 Questo era un M4, cioè un G38, non mi ricordo chi arma è Sì, G38 E giusto per riprendere un po' l'M4 Per farvi vedere un po' la differenza Purtroppo su Tarkov io non utilizzo quasi mai AK Perché se li prendo li vendo, li utilizzo subito e poi ci muoio E quindi non ho Cioè essendo che non ho nemmeno mod fighe Non vi ho fatto vedere Chissà che Cioè insomma non ho fatto vedere la AK di Tarkov Ok, ho fatto vedere i VAL, l'M4 e vari tipi di armi Comunque figata assurda che sarebbe che Anzol mettessero anche su Tarkov Questi mirini con i laser Poi vedete ci possono mettere anche qua i mirini laterali Possiamo mettere, possiamo cambiare la canna Lunga, media o corta Possiamo scegliere il Muzzle Break Quindi compensatore, flashider, suppressor Possiamo mettere che in lower Ora vi faccio vedere che ci sono i grip Quindi anche qui una variante assurda di grip Belli, sono molto belli Questo che si era visto anche su Tarkov Questi qua ad esempio c'è la patata Poi c'è questo di lato che su Tarkov questi non ci sono E poi ci sono questi qua che anche questi sono le combo E sono fighe queste cose Sarebbe ganso anche avere su Tarkov Poi vabbè le classiche La combo con il flash e il silenziatore O solo flash o solo Eh sì, silenziatore laser O solo laser Poi possiamo cambiare anche qua i caricatori Da 10, da 20, da 30 E da 50 Eppure da 60 Guarda qui vi faccio vedere un po' Come sono fatti quei caricatori Quindi Tac, 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 tac E poi andiamo da quelli da 50 E uno del primo Anche questo sembrano quelli dell'M1A E poi questo qua Che si è visto anche su Tarkov Poi additional ammo HP, FMJ, AP Se mettiamo FMJ ce ne da un po' di più Perché la base è FMJ E talmente se metti HP o AP Poi se tieni premuto R Ti da 30 colpi aggiuntivi Ma solo di quelli E basta Eh, possiamo cambiare anche le varie Rail Qui c'è l'endguard Anche qui ci sono Non ce ne sono tantissime Però ce ne sono diverse Quindi sto mettendo quelle magari un po' più fighe Diversi tipi di calci E diversi tipi anche di pistol grip Eh, questo è il calcio anche che abbiamo visto su Tarkov E pistol grip ovviamente non lo posso cambiare Perché c'era già il calcio che fa tutti e due Poi posso mettere una mimetica Come in tutti i giochi magari del genere Del tipo Giochi tipo COD Tipo Battlefield Eccetera Poi c'è quella Anarchy Vabbè Quella Anarchy E poi c'è la mia preferita Che è la Yellowstroke È bellissimo la Yellowstroke E poi ci sono le varie Quelle Tutte e una E bla 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 Infatti vado a mettere la Yellowstroke E questo è Un M4 Modato di World War 3 Ovviamente qui noi non abbiamo potuto iniziare da qualsiasi tipo di cosa Però come Come modding non è male A me piace Cioè Tarkov è infognante Questo si avvicina molto 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 a Tarkov Diversi tipi di mirini che magari non ci sono anche su Tarkov Come grip eccetera E qui vi faccio vedere un po' come Come si modda un AK E comunque Vi voglio parlare di una cosa Che sto notando Non so se è un bene o un male Perché ho sempre detto Voglio portare altri giochi sul canale Però non vengono visti da tantissimo Quanto viene visto Tarkov Però adesso vengono visti di più gli altri giochi che Tarkov Cioè l'ultimo video di Tarkov mi pare quasi 300 views Mentre il primo di World War 3 mi pare 600 Non lo so Devo controllare Forse 600 E adesso non so Sono a 3 o 4 giorni da quando l'ho caricato È a 600 Sì è a 600 circa Poco più di 600 E sono contento Perché l'ultimo di Tarkov è 253 Poi la live vabbè 280 Non si li guardano un'ora e mezzo di video E quello di generation 0 508 Sono contento Perché Insomma mi viene alla pari di Tarkov quasi Perché comunque Tarkov Da quando ho ripreso un po' a portarlo Tra le views sono 452 558 391 422 258 E poi vabbè 280 se vogliamo contare la live E World War 3 613 E il Quello di generation 0 508 Per me è il 28 ottobre Il 27 è caricato quello di generation 0 Quindi in un giorno 508 Mentre in 3 è quello di World War 3 613 E quello di Tarkov Una decisione fruttante Dopo 5 giorni invece 258 Sono contento perché comunque Spero anche per altri giochi più avanti Siano visti anche loro Tanto quanto Giochi che non siano Tarkov Ok Quindi spero mantenete questi passi Magari Ritornate a guardare il Tarkov Lo sto portando perché vi piace Comunque qui vi faccio vedere Anche le pistoline Perché Vabbè Ve li devo far vedere Insomma per farvi capire Come ho fatto a vedere su Tarkov Come può diventare Un Un assalto Vi faccio vedere Come può diventare Una pistola normale Qui mi sarà Buggato Che ero rimasto sul coso Dei proiettili Infatti non capivo Poi sono tornato sul caricatore E si è rimesso Quindi questa robicola È la Labdev Poi vi faccio vedere Anche qui la Glock Che è la G17 Non è la 18 Però Diventano uguali A quelle di Tarkov Tranne che non aveva Non ha il La rail davanti Si può montare direttamente Dietro Anche qui caricatore Da Da 50 Laser torch Eccetera E cosa Ganza Ti puoi modificare Anche il personaggio Quindi Si può mettere Tanti elmetti Si possono mettere Diversi tipi Di balaclava Di facce Che ce n'era una sola Sinceramente Anche delle Gas mask Che c'è Quella La civilian Gas mask Quella russa Che è Spettacolare Lascerlo anche in real Per chi l'ha visto Su facebook E Poi niente Il classico Balaclava Da russo Fico La Questa maschera Che c'è anche Su Tarkov Questo Corpettino Figo Questo Giubbuttino Con il cappuccio Ci sta da dio Questi pantaloni Dentro Agli scarponi E viene Una figata E Niente Comunque Ecco qua Che figata Lo zainone Questo è L'Attack 2 Di Tarkov E Quindi Queste Sono le comparazioni Tra le mod Di Tarkov E di World War 3 Magari Ditemi voi Nei commenti Dite la vostra Vediamo un po' Che cosa Dite Riguardo Al mod Di Tarkov E quello Di World War 3 Ovviamente Secondo me Vince quello Di Tarkov Per Completezza Però Secondo me Ditemi se è pensata La stessa cosa Se Quello di World War 3 Si avvicina A quello di Tarkov Comunque Io vi ringrazio la visione E niente Vi lascio a questa musica Fantastica E ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.